Grazie a tutti, votatemi. Posso chiedere una cosa a Gigi? Solo una cosa da farci per noi, solo per noi. C'è Fasulò che però ci... Può? Posso? Un po' di Tiziano Ferro, poco. Quando faceva la linea era stupendo. Noi lo facevamo che era un po' incomprensibile però. Un po' mi manca l'aria che... Che? O semplicemente l'aria... Sarebbe la bianca a schiena. E poi c'era, no, e poi c'era... No, e lui faceva... Solo che pensavo quanto inutile fare... Credere di stare bene... Eh, è bello. Fantastico, bravo. Bravi.